Torna alta la tensione ad Amazon. La scelta dell'azienda di disertare l'incontro in programma questa mattina in prefettura ha sortito l'effetto di alimentare la delusione dei lavoratori che hanno proclamato una serie di scioperi a sorpresa nelle due ore di ogni fine turno. Di fatto si è aperta la fase che le parti sociali, senza tanti giri di parola, hanno definito guerriglia. Il motivo che avrebbe indotto l'azienda a non presentarsi sarebbe da ricercarsi, da quanto fa sapere la prefettura, nel clima di eccessiva pressione che si era venuto a creare intorno all'azienda, acuito dalla decisione di organizzare in contemporanea un presidio di lavoratori in piazzetta Tempio. È montata così la rabbia dei sindacati, i quali, dopo aver consegnato al prefetto una lettera aperta indirizzata al capo di Amazon, Jeff Bezos, ai ministri Giuliano Poletti e Carlo Calenda, a Tito Boeri, presidente dell'Inps e a Massimo De Felice, presidente dell'INAIL, hanno organizzato assemblee sindacali culminate con la decisione di astenersi dal lavoro e di organizzare presidi di fronte allo stabilimento. Circa 200 i lavoratori che hanno deciso finora di astenersi dal lavoro. L'atteggiamento del colosso dell'e-commerce è stato criticato anche dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Paola De Micheli, che ha parlato di comportamento inaccettabile nei confronti di un'istituzione come la prefettura, annunciando di aver informato il ministro Poletti, affinché si valutino eventuali nuove iniziative da prendere per ricondurre la vicenda sui binari del confronto rispettoso. D'accanto suo, Amazon, che ha incontrato il prefetto in separata sede nel primo pomeriggio, ha fatto sapere. In azienda siamo impegnati a costruire un dialogo continuo e una positiva cooperazione con tutti i dipendenti e a creare un ambiente attento e inclusivo nei nostri luoghi di lavoro.